Ebbene sì ragazzi, eccoci qua. Finalmente andrò a sciare per la mia prima volta. E mi stacca cacassotto. Siamo appena arrivati qua sul Monte Rosa e devo dire che è finissimo. Adesso io sono in questa bellissima stanzetta con questi motivi. Come ben potete vedere giù, sta pieno di neve. E niente, la casa è bellissima. Magari domani vi faccio un po' un tour e vi faccio vedere oggi. A da nanna, che ho fatto il viaggio. Buongiorno raga, allora ci siamo agghindato da sci. Sì ragazzi, è arrivato il momento raga. Andiamo, andiamo. Andiamo raga, andiamo a sciare sul Monte Rosa. Sì, va che hit. Ci siamo, Walter, ci sei. Guarda che stile, qua che chiede. Bene sì raga, siamo pronti, ancora tu pronti. Stiamo facendo il bigliettino e andiamo su raga, guardate che bello. Ah, potenzia. Ah, stai già riprendendo. Vanno i numeri? Sì, ma non è solo il bigliettino. Ora sì. Aspettate, bastardi. Grazie, ci serve alla mano questo? Deve tenerlo qua nella toschina che dice. Questa qua. Perché è magnetico, quindi va a sì. Mi sfuggi in mano. Ma io non ho mai sciato, la grann posso salirla. Non posso venire su. Metti dietotto, così. Punta, attacca dentro. Oh. Quindi è meglio fare spazzaneve? Sì, ma non lo faremo mai. Mai? Quindi spazzaneve te ne... Quindi così devo fare? Ma tanto c'è, ci sono volte le altre. Sono dei bugiardi, non staranno mai insieme a me. Sono dei bugiardi. Sì, 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 sì. Ma poi se cado mi spacco le gambe perché sono attaccate. Ah, giù, giù, metterla. Sì, 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 sì. Dove devo inserire il biglietto? No, non lo devi inserire, devi passare. Ah, proprio così? Basta, basta. Che figo. No, sì, bene, raga. La mia prima volta sono su, come si chiama, una seggiovia. A me lo penso. Veramente bello. Sì, guardate qua il paesaggio, che roba. Oh, quanto è alto, aiuto! Vediamo, tanto pesano. Sei un po' paguta. Oh, shit! Ma voi siete scemi! È andato da solo, però... Ma lo so a salire! Questi vanno pure in salita, oh! No, la gente viene giù, però. Non riesco a frenare, però... A te sembra facile. Poco, però... Poco, però... Un po' giù... ... Un po' giù. Un po' giù. Un po' giù. Scopri di tutto il posto Dove mi alzo? Di lato Si Sì Mi spettano delle cevaglie di oltre a parte Qui funziona? Sì 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 Vai di centro basso Stantissimo Sì 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 faticoso impegnativo quindi è stato veramente bellissimo e sono orgoglioso di aver fatto la mia prima volta a sciare e non vedo l'ora di affrontare un'altra giornata al più presto niente ora si torna a milano raga che dire spero che il video vi sia piaciuto e vi ricordo che basta mettere un like commentare e condividerlo ciao ragazzi